Davvero ci sono molte materie sulle quali ci troviamo sulla stessa lunghezza d'onda, a partire ovviamente dal tema dell'Ucraina, tema che ovviamente sarà anche al centro insieme alla politica di sicurezza e di difesa del vertice di Vilnius al quale ci apprestiamo a partecipare. La posizione dell'Italia, la posizione della Lettonia sono in buona sostanza posizioni identiche, abbiamo sostenuto, sosteniamo l'Ucraina a 360 gradi anche lavorando perché l'Europa possa maggiormente investire sulla propria sicurezza, sulla propria difesa.